Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio far vedere questo kit di Peppa Pig in cui potremo costruire con il Pongo una fantastica torta di compleanno. E vedete che in un altro video avete visto appunto i componenti di questo kit e ora lo mettiamo in pratica e vediamo di fare questa torta. Partiamo quindi dalla base che è fatta con questi due piani e ora utilizziamo il Pongo rosa e riempiamo la nostra siringa da pasticcere. Schiacciamo forte Ed ecco qua, se facciamo più rosa naturalmente possiamo mettere tutta la torta con questa decorazione a balze e di nuovo vedete posso fare questa bisciona schiacciando forte e di nuovo vedete. Ed ecco qua Poi possiamo fare una candela naturalmente la nostra candela di compleanno possiamo farla quindi con la cera bianca schiacciando un pochino e poi naturalmente mettiamo la fiamma ed ecco qua in giallo schiacciando i due componenti insieme rimuoviamo quindi ora la parte in eccesso ed ecco qua la nostra candela ed ecco qui vedete abbiamo fatto la nuova candela ovviamente la manipoliamo un po' con le mani e poi possiamo continuare con le nostre decorazioni ecco qua vedete ho messo del pongo azzurro intorno alla candela e possiamo utilizzare ora del verde per continuare a fare delle altre decorazioni come per esempio delle piccoli anellini o delle piccole biscette diciamo così ed ecco qua o possiamo naturalmente anche fare varie palline colorate che naturalmente sono per tutti i vari dolci quindi per esempio abbiamo non so questa che può essere di vaniglia questa di menta o la fragola ecco qua guardate qui la nostra torta direi che è bella riempita in questo momento abbiamo tante decorazioni che possiamo ancora fare vedete abbiamo la candela queste palline colorate tutte di dolci come se fossero anche degli M&M's per esempio questa bellissima decorazione con lo zucchero rosa e ora Peppa è pronta per festeggiare il suo compleanno e naturalmente invita tutti i suoi amici a questa festa e insieme mangeranno questa bellissima torta oggi è il mio compleanno e non vedo l'ora di festeggiare con tutti i miei amici e con questa bellissima torta tutti insieme finché non la finiremo tutta e crolleremo dal mal di pancia auguri Peppa grazie grazie e manca ancora qualcuno Susi? Peppa eccomi eccomi ci sono ciao auguri auguri Peppa grazie ecco qui ora siamo tu al completo e possiamo festeggiare il mio compleanno questo è stato il video della torta di Peppa appunto con il kit per lavorare e decorare col pongo fatemi sapere quello che ne pensate scrivete qui sotto i vostri commenti e naturalmente ci vediamo alla prossima volta con nuovi video e nuovi giochi insieme alla prossima ciao